buongiorno da salvo giuffrida che vi dà il benvenuto nell'edizione del mattino del notiziario flash di free press online di giovedì 20 maggio 2021 fermiamo la strage nei luoghi di lavoro sarà questo l'appello che verrà lanciato oggi giovedì 20 maggio in tutta italia e anche a catania da cgl cis le will nel corso di una mobilitazione che si terrà a partire dalle 9 30 in piazza università dopo gli ultimi gravi incidenti sul lavoro avvenuti nel paese una delegazione del pd catania incontra l'associazione briganti di librino in segno di solidarietà dopo l'incendio del pulmino di qualche giorno fa puntiamo molto sulla metropolitana di 40 chilometri complessivi sulla funzione di intermodalità e sullo sviluppo dei parcheggi a cicastello sanzio e narciso per cui abbiamo vinto un bando della regione lo ha detto salvo pogliese ieri sera il consiglio comunale straordinario grande catania ha chiesto che le direttive generali sul piano della mobilità di catania arrivino in aula entro 30 giorni covid proteggi te e i nonni è il titolo della nuova iniziativa della regione siciliana per dare impulso alla campagna vaccinale destinatari gli ultrottantenni accompagnati da un maggiorenne anche senza vincolo di parentela da venerdì 21 a domenica 23 maggio sarà loro consentito vaccinarsi senza prenotazione e con una corsia preferenziale per gli accompagnatori è richiesta l'adesione volontaria a vaccini con vettori adenovirali in poche parole astrazeneca per tutti gli aggiornamenti vi rimandiamo al sito www.freepressonline.it ai nostri canali social il prossimo notiziano flash sarà online stasera alle 22 news ciao è